Di salute, una alimentazione con la giusta quantità di sale è alla base di una buona salute appunto. Questo quanto è emerso dallo studio Molisani, guidato dal direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromeditipozzilli, si tratta del professor Giovanni De Gaetano. Sentiamo. Le buone regole alimentari e la conoscenza delle principali fonti di sale. Sono stati questi temi al centro dell'incontro organizzato dalla sezione Molise Puglia della Società Italiana di Nutrizione Umana, che anche quest'anno ha aderito alla campagna organizzata in tutto il mondo e che si svolgerà fino a domenica 18 marzo. La nuova sezione Molise Puglia, da poco costituitasi sotto la guida del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromeditipozzilli, ha organizzato l'evento in collaborazione con l'Associazione Cuore Sano Onlus di Campobasso e il team di ricercatori dello studio Molisani, guidato dal professore Giovanni De Gaetano, direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione. Dobbiamo imparare che man mano che riduciamo il sale, le nostre papille gustative, il nostro organismo si abitua. Certo, se uno mangia salato e dal giorno dopo improvvisamente vuole ridurre il sale, non ci riesce, non riesce a mangiare. Ma se noi facciamo un programma in cui piano piano togliamo il sale, possiamo ridurre le quantità importanti senza accorgercene. Stiamo partecipando a un programma del Ministero della Sanità in cui molti produttori di pane e di biscotti in Italia, comprese delle grandi ditte che producono questi prodotti, stanno riducendo ogni anno un po' il sale. Nessuno se ne è accorto finora. Però, a livello nazionale, io mi immagino che sarà un grande vantaggio, quotidianamente, mangiare una piccola quantità di sale in meno. Intanto, professore, occhi puntati sulla dieta mediterranea. Sì, la dieta mediterranea è fatta di cibi come le verdure, per esempio, la frutta, che contengono poco sale. Quindi, chi segue la dieta mediterranea, nel nostro studio Molisani, ha dei livelli di consumo di sale, già senza accorgersene, consuma meno sale, di chi invece fa una dieta, diciamo, più di tipo occidentale o anglosassone. Intendo gli hamburger, le patatine fritte, cose simili.